Bene, allora buongiorno a tutti e ben ritrovati. Iniziamo oggi, continuiamo cioè a parlare dei tipi di dato fondamentali. Allora scusatemi se sto a sedere ma ho la necessità di gestire due microfoni in contemporanea e quindi ho bisogno per forza di stare bloccato qui. Poi fra l'altro fra un po' scriviamo pure per cui vi chiedo scusa per questo. Dicevo che riprendiamo quindi a parlare dei tipi di dato fondamentali messi a disposizione dai linguaggi evoluti, nel nostro caso il C++, il C. Anzi, abbiamo visto l'altra volta il tipo int, integer, che vi ricordo che il tipo integer suppone che il dato venga memorizzato sulla RAM in formato in complemento a 2 e abbiamo visto le operazioni fondamentali. Adesso andiamo avanti, vediamo un tipo di dato primitivo che in C non era previsto, il C++ l'ha introdotto e il tipo cioè booleano. Di che si tratta? Allora, è un tipo di dato che a differenza del tipo intero che può assumere 4 giga valori su 4 byte, il tipo booleano può assumere solo due valori, 0 ed 1. Il nome deriva da George Bull, che è stato il filosofo che ha studiato, ha scritto, è molto giovane, ha scritto un libro sulle leggi della logica, ha fondato la logica cosiddetta punto booleana, la logica del vero e del falso. Sono sostanzialmente variabili, quelle di tipo booleano, che servono per gestire i concetti di è vero o è falso. Quindi assumono solo due valori, queste variabili. Però non esiste, in teoria, il tipo di dato primitivo per ospitare un concetto di questo genere, cioè vero o falso, sarebbe il bit. Potremmo assegnare, ad esempio, un bit 0 per significare il falso e il bit 1 per significare vero. Ma siccome il bit non è accessibile direttamente, perché abbiamo detto che l'hardware dei processori prendono un byte alla volta, cioè 8 bit, allora non si è adottato questo criterio, è semplicemente un criterio che potrebbe generare un po' di confusione. Per cui, attenzione, il criterio è questo qui. Il C++ appoggia il tipo di dato booleano sul tipo intero. Anzi, sì, sul tipo intero. E cioè, semplicemente associa il valore intero 0 al concetto di falso e il valore è qualunque altro valore al concetto di vero. La confusione si genera sul fatto che un qualunque altro valore che non sia 0 viene interpretato come vero. Ma se invece... Adesso facciamo degli esempi, così spero che si chiarirà il concetto subito. Noi dobbiamo settare una variabile di tipo booleano a vero, il compilatore setta questa variabile a 1. 1. Quindi, se siamo noi che settiamo il valore alla variabile di tipo booleano e gli assegniamo il valore false, il compilatore gli assegna il valore 0. E se gli assegniamo il valore true, il compilatore gli assegna il valore 1. Ma, se invece abbiamo una variabile qualunque e la interpretiamo in senso booleano, come adesso stiamo per vedere, il compilatore andrà a vedere se 0 gli associa il valore false, se qualunque altro valore gli associa il valore true. Quando dicevo che il C e il C++, da cui il C deriva ovviamente, non sono linguaggi puliti, intendo dire che fanno cose come queste, e cioè definiscono un tipo di dato che può avere solo due valori, definiscono gli operatori per lavorare su questo tipo di dato, nel caso appunto del tipo booleano gli operatori sono tre, l'operatore di congiunzione, l'end, l'operatore di disgiunzione, l'or, e l'operatore di negazione. I primi due sono binari, il terzo è monadico, cioè apprende un solo argomento. L'interpretazione di ciò che fanno questi operatori è appunto data dalle leggi che per primo George Bull scrisse nel suo libro, e cioè se gli operatori del LEND sono A e B e sono entrambi veri, l'END è vero, se uno dei due è vero, basta che uno dei due sia falso, chiedo scusa, che l'END è falso. Nel caso dell'OR, perché l'OR di due variabili booleane sia vero, è sufficiente che uno solo dei due operandi sia vero, sarà falso l'OR nel caso che entrambi sono falsi, e per quanto riguarda l'operatore di negazione, semplicemente non fa altro che cambiare il valore logico della variabile da vero in falso e da falso in vero, per cui, per esempio, NOT A, si pronuncia così, questo punto esclamativo, sarebbe la negazione logica dall'inglese NOT, NOT A sarà falso se A è vero e sarà vero se A è falso. Questi sono i tre operatori che si utilizzano con il tipo di dato primitivo booleano C++, BULL. Però, come ho riportato qui in questa slide, e questo è il concetto che stavo cercando di anticipare prima, si vede solo parzialmente, voi lo vedete solo parzialmente, ma se per esempio abbiamo due espressioni aritmetiche che restituiscono due valori, per esempio, non so, 23 e 45, espressione 1, 23, espressione 2, 45, e le mettessimo in AND, fra di loro, 1 AND ESPR 2, e 23 e 45 mi restituirebbe come valore logico true. Perché? Perché il 23 sarebbe interpretato come vero, in quanto che non è zero, lo stesso è 45, perché non è zero, e vero, AND vero, dalla tabella del valore di verità del connettivo di congiunzione mi restituisce vero, e quindi ESPR 1 AND ESPR 2 restituirebbe vero. Adesso, ripeto, la tabella la vedete sì o no? Vediamo se riesco a... cambia qualcosa? No, è peggio. però poi la vedrete eventualmente sulle slide. Facciamo un esempio per cercare di capire meglio questo concetto. Sperando che l'esempio almeno si veda. Si vede questo? Si vede o no? Meglio? Vediamo un po' se trovo subito un essercizzetto che spieghi questo concetto. Non lo sto a trovare. Allora... Devo far prima. Prima o poi lo trovo. Vabbè, ce lo facciamo per conto nostro. facciamo un esercizio che illustri un po' questo concetto. Facciamo un programmino dove definiamo due variabili di tipo booleano. Allora, per definirle, come al solito, due variabili, bisogna prima definire il tipo e bool, vedete che l'ha evidenziato in blu? Si vede? Perché perché il l'IDE, qui, Gene in questo caso, ha riconosciuto bool una parola chiave del C++ che definisce un tipo di dato primitivo appunto il tipo di dato booleano. Bool e diciamo due variabili, gli diamo un nome, anzi, una sola, tipicamente le variabili booleane potremmo chiamarla A o possiamo chiamarla per esempio flag. Spesso vengono chiamate flag perché sarebbero le bandierine che se sono alzate o abbassate significa vero o falso. Quindi chiamiamole così e proviamo ad esempio a dargli un valore con l'operatore di assegnamento flag uguale true anche true è una parola riservata del C per cui viene evidenziato in blu. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo settato questa variabile booleana al valore vero dall'inglese ovviamente true che significa vero. Adesso ce l'andiamo a stampare mandiamo in output la stringa flag vale e poi il valore della variabile e poi facciamo lo stesso con il valore false anche false è una parola riservata del C++ che sta per il concetto di falso e mandiamo in output adesso di nuovo il valore della variabile poi magari andiamo a capo ogni volta mi viene a dare di avere un output un pochetto più ordinato che cosa ci manca? ci manca ci manca siccome abbiamo usato gli operatori l'operatore di output abbiamo usato che è questo qui ne parliamo nel pomeriggio spero dobbiamo specificare il fatto che stiamo usando lo spazio di nomi standard bene il commento non ci interessa allora vabbè in questo esempio non ci interessa neanche A cominciamo così lo salviamo compiliamo va beh gli diamo un qualunque nome adesso proviamo a compilare ha compilato correttamente adesso se andiamo ad eseguire il programma cosa vi aspettate che scriva in output? ovviamente può rispondere solo chi non ha computer davanti una volta? è quello che succederà la prima volta stampa il flag vale 1 la seconda volta il flag vale 0 perché ha interpretato true come 1 e false come 0 posso fare io flag diventa 35 lo compila o no? che dite voi? l'ha compilato e allora a questo punto siamo curiosi di andare a vedere quanto valga quanto varrà flag? vediamo se compila ancora ovviamente compila flag vale sempre 1 e non vale 35 perché io ovviamente se avessi scritto se avessi scritto A uguale 35 e avendo definito A di tipo intero e andassi ovviamente a vedere quanto vale A scusate era partito quello di prima dicevo se A è definita tipo intero e io l'assegno a 35 ovviamente A varrà 35 ma se la variabile in questione come nel caso della variabile flag è definita di tipo booleano e io gli do il valore 35 o qualunque altro valore e la variabile non prenderà il valore 35 ma prenderà il valore 1 questa è quando io parlo del fatto che questo è un linguaggio sporco dico intendo cose di questo genere e ne troverete tantissime si tratta sostanzialmente di stratagemmi che i programmatori hanno utilizzato per cercare di semplificare a loro la vita anche se la pulizia dal punto di vista logico semantico del linguaggio ne risente però un concetto che positivo che salta fuori è appunto l'importanza della definizione del tipo perché a che cosa serve il tipo il tipo di una variabile serve a indicare agli operatori che poi la tratteranno quella variabile come la devono trattare in particolare questo operatore qui di cui parleremo spero nel pomeriggio l'operatore di inseritore cioè che inserisce nello stream di output il valore di una variabile nello stamparla il valore di quella variabile sullo schermo va a vedere la variabile di cui deve stampare il valore di che tipo è attenzione flag e a dove stanno sono due variabili che stanno tutte e due sulla ram ovviamente flag ed a sono indirizzi di queste due variabili e stanno sulla ram esattamente dal punto di vista dell'occupazione dello spazio nella stessa maniera occupano entrambi 4 byte e dentro ci stanno degli 0 e degli 1 quando l'operatore va a leggere il valore di quella variabile se quella variabile era definita di tipo intero allora quest'operatore interpreta quei 32 bit come le rappresentazioni in complemento a 2 di un numero intero va a vedere che numero è e come avete visto qui stampa in output in questo caso 3 e 5 che sarebbero gli asci che gli servono per rappresentare il numero 35 sullo schermo ma se va a prendere la variabile flag essendo essa stata definita tipo booleano ci trova dentro pure 35 in binario ma la interpreta come vero o falso capisce che 35 sarebbe vero perché ogni numero diverso dallo 0 sta per vero e quando la deve stampare in output invece che stampare 35 stampa 1 perché il compilatore C++ usa l'1 per rappresentare il vero questo è tutto quello che sta facendo l'esempio è banale però avete visto quanto è torno a dire sporco tutto questo modo di fare ma voi dovete tenerlo a mente non so se sono riuscito a complicarvi sufficientemente le idee avete delle domande su questo? attenzione il tipo booleano è importante è importante perché sia le istruzioni condizionali l'IF che le istruzioni di ciclo saranno basate su espressioni di tipo booleano va bene ma ci torneremo andiamo avanti il terzo tipo primitivo che vediamo dopo int e bull è il tipo unsigned il tipo unsigned unsigned int sta per il numero naturale sono i primi numeri che abbiamo visto quando abbiamo iniziato questo corso e cioè sono gli interi senza segno quindi sono solo positivi sostanzialmente per il tipo unsigned valgono tutti gli operatori che abbiamo visto per il tipo intero in particolare gli operatori aritmetici e gli operatori di precedenza ma parlando del tipo unsigned no di precedenza chiedo scusa gli operatori di relazione e cioè uguale diverso maggiore maggiore uguale minore minore uguale dicevo parlando degli unsigned introduciamo sei operatori nuovi che sono tre operatori simili a quelli che abbiamo visto per il tipo bull che sono or and ed or esclusivo che però vengono definiti bit a bit in inglese bit wise perché fanno operazioni logiche come quelle che abbiamo visto nella tabella di verità dell'end dell'or e dell'end dell'or e non abbiamo parlato però dell'or esclusivo nel caso del booleano adesso ne parliamo qui però queste operazioni vanno pensate sono applicate bit a bit adesso se potessi andare alla lavagna magari sarei più chiaro però adesso cerco comunque di farmi capire ugualmente e sono i primi tre vedete che l'operatore è diverso perché nel caso dell'operatore or booleano avevamo due barre verticali qui ce ne abbiamo invece solo una nell'operatore and booleano avevamo due ampersand adesso ce ne abbiamo uno solo e poi qui abbiamo l'or esclusivo che è rappresentato dall'accento circonflesso e ora spiego meglio cosa significano questi qui poi abbiamo la tilde anteposta al nome della variabile che è l'operatore di complemento bit a bit questo è più facile di tutti lo dico subito quello che fa semplicemente dentro questa variabile i gli 0 vengono cambiati in 1 e gli 1 vengono cambiati in 0 poi gli ultimi due operatori che vedete pure li abbiamo introdotti a suo tempo adesso li rivediamo dal C sono gli operatori di traslazione per esempio questo I freccia a sinistra freccia a sinistra 2 starebbe per l'operatore di traslazione a sinistra cioè trasla verso sinistra di due posti la sequenza di bit facendo facendo entrare da destra quindi 2 0 di nuovo spero che voi immaginate quello che sto dicendo è comunque un concetto che abbiamo già visto quando abbiamo parlato della traslazione e ovviamente questo che vedete da ultimo è l'operatore inverso la traslazione a sinistra vuol dire moltiplicare per 2 la traslazione a destra vuol dire moltiplicare dividere per 2 di tante volte di quanti sono i bit di cui si shifta in questo caso per esempio questa operazione qui I parentesi angolare parentesi angolare sinistre 2 significherebbe moltiplicare per 4 e l'ultimo invece significherebbe dividere per 4 allora l'orbit a bit che cos'è in pratica prende due variabili i e j che stanno al solito sulla ram e ad ogni coppia di bit corrispondenti per posizione va ad operare l'operazione che l'operatore rappresenta in questo caso per esempio l'or e quindi che cosa si fa si va sul primo bit di i e sul primo bit di j si va a vedere come sono questi bit se sono 0 se sono 1 nel caso che sono entrambi 1 nel lor viene restituto 1 anche nel caso che uno solo dei due sia 1 viene restituito 1 nel caso in cui siano entrambi 0 viene restituito 0 questo è quello che fa l'operatore orbit a bit l'end bit a bit va a prendere tutte le coppie di bit di i cioè dell'operatore a sinistra e dell'operatore dell'operando a sinistra e dell'operando a destra dell'end e per corrispondenza di posizione va a vedere quanto valgono i bit corrispondenti in posizione e in quella posizione restituisce un 1 se quei due bit sono entrambi 1 e uno 0 nei restanti casi qui abbiamo anche l'or esclusivo l'or esclusivo è così se uno dei due bit è 1 restituisce 1 se sono entrambi 0 come nel caso dell'or restituisce 0 ma l'or esclusivo se sono entrambi 1 pure restituisce 0 cioè l'or esclusivo sarebbe il concetto di dal latino out out e cioè o è vero uno o è vero l'altro ma non è possibile che siano veri entrambi invece l'or normale è l'or l'or congiuntivo ammette la possibilità che siano vere entrambi siano uno entrambi allora siccome credo che non essendo andato alla lavagna a cercare di disegnare un po' per farvi capire avete capito pochino proviamo a vedere se con un esercizio riusciamo a capire qualcosa di più anche se anche qui dovrei andarlo a retro eccoci qua eccoci qua lo vedete questo esercizio si vede ditemi un po' sì allora ho preparato un esercizio appunto per cercare di illustrare questi concetti quest'ultimo c'è degli operatori bitwise supponiamo di no supponiamo definiamo tre variabili a b e c di tipo unsigned oppure unsigned int quindi a b e c sono gli indirizzi ripeto ancora poi non lo dirò più in memoria di tre quadruplette di byte perché ciascuno di questi è espresso su quattro byte che saranno destinati ad ospitare un numero che sarà interpretato non in complemento a due sarà interpretato in binario semplicemente chiedo all'utente di questo programma di immettere due numeri naturali poi con questo operatore che vedremo spero nel pomeriggio andiamo a prendere il valore che è stato immesso dalla tastiera il primo valore lo mettiamo sulla ram all'indirizzo a e il secondo lo mettiamo sulla ram all'indirizzo b dopodiché scrivo in output a vale e mando in output il valore di a e poi scrivo in output e b vale e mando in output il valore di b poi scrivo la loro congiunzione e e che cosa faccio prendo la variabile a e la variabile b e applico a entrambe l'operatore and bitwise bit a bit sono costretto a mettere tutto fra parentesi tonde perché questo operatore qui quello che sto evidenziando si vede si evidenzio io non vedo niente da qua sotto si vede questo operatore qui l'operatore di inseritore ha precedenza maggiore dell'operatore and per cui se non mettessi questa parentesi tonda si applicherebbe solo all'a e non a tutta l'espressione a and b messo l'espressione a and b fra parentesi tonde il problema lo risolviamo anche di questo parliamo meglio nel pomeriggio successivamente scrivo la loro disgiunzione e e mando in output il risultato dell'espressione che mette in orbit wise i due unsigned e poi faccio lo stesso per la disgiunzione esclusiva dopodiché mando in output il valore della negazione di a cioè non della negazione chiedo scusa della negazione bit a bit cioè del fatto che prendiamo a i suoi 0 li cambiamo in 1 e i suoi 1 li cambiamo in 0 poi per cercare di dare un senso a questa operazione ancora non abbiamo fatto l'IF ma per cui ho un po' di difficoltà a cercare di spiegarmi però mando in output anche il risultato dell'end di 32 con A vediamo un po' facciamo faccio una piccola verifica secondo voi che cosa stamperà in output questa espressione beh dipende da cosa abbiamo scritto in A ovviamente dal valore di A ma mettendo A in end bit a bit con 32 cosa succede? mi è stato risposto bene qui dalle prime file perché ho 0 32 molto bene perché 32 è la quinta potenza di 2 quindi è un numero che in binario è scritto come tutti 0 meno 1 bit quello in posizione 6 che ha un 1 il resto sono tutti 0 se lo metto in end bit a bit con un qualunque altro numero cosa succede che il risultato sarà un numero che ha tutti 0 sicuramente perché 0 end qualunque cosa mi da 0 meno che nella posizione 6 perché nella posizione 6 il 32 ha un 1 per cui cosa da dipende dall'altro se l'altro ha un 1 in quel posto no 1 e 1 mi da 1 1 end 1 da 1 se l'altro numero nella posizione 6 ha uno 0 1 end 0 mi da 0 quindi in definitiva è esattamente come dice lui il risultato sarà o 0 tutti 0 o 32 se è 32 io so che il bit in posizione 6 è 1 lo stesso per 16 che sarà il bit in posizione 5 lo stesso per 8 che sarà il bit in posizione 4 in posizione 3 in posizione 2 e in posizione 1 cioè in pratica posso usare l'operatore bitwise per andare a vedere il singolo bit di una qualunque variabile quanto vale e ho dato un esercizio d'esame che l'ho dato tante volte che era proprio scrivere un editore binario cioè un visualizzatore binario che è dato un file mi fa vedere tutti gli 0 e tutti gli 1 di cui è composto proprio utilizzando queste tecniche va bene allora facciamo così secondo me mi sta tanno andando intanto lo compilo e lo eseguo allora mi chiede di mettere due numeri naturali per esempio 22 44 adesso 22 andrà a finire in A quando premo invio e 44 andrà a finire in B e poi verrà non c'è più nessun cin per capirci per cui tutte le istruzioni di stampa andrà fino alla fine poi ci ritorniamo e ricommentiamo quindi vado ecco infatti mi scrive A vale 22 e B vale 44 la loro congiunzione è 4 che significa questo che è andato a fare l'end bit a bit e il risultato adesso dovremmo fare una verifica carta e pena sulla lavagna ma insomma se prendete il 22 e prendete il 44 e fate l'end bit a bit alla fine avrete un numero beh quel numero interpretato in quanto unsigned sarà il numero 4 se fate la disgiunzione sarà 62 se fate la disgiunzione esclusiva è 58 cioè non è che tutto questo ci abbia molto senso interessante la negazione di A è questa roba che sarebbe andiamo un po' a vedere 4 miliardi 294 967 e 273 questo altro non è che è l'interpretazione numerica del risultato di 22 avendo cambiato gli 0 di 22 in 1 e gli 1 in 0 chiaramente 22 ci aveva i primi 25 bit tutti a 0 avendoli cambiati in 1 ecco che abbiamo un numero molto vicino a 4 giga perché i primi 25 sono tutti 1 poi andiamo qua il bit il bit in posizione 6 di A vale 0 il bit in posizione 5 vale 1 il bit in posizione 4 vale 0 il bit in posizione 3 vale 1 il bit in posizione 2 vale 1 e il bit in posizione 1 vale 0 e infatti 22 è 2 più 4 più 16 ragazzi questi sono i fondamenti dell'informatica e della programmazione adesso vi faccio vedere una cosa che pochi sanno ve lo dico veramente è un trucchetto vecchio come il cucco che appunto molti programmatori hanno dimenticato e per cui lo andiamo a riprendere e ve lo ve lo ve lo ve lo dono insomma ecco sto parlando di un'operazione che si fa spesso nell'informatica e cioè quella di prendere due variabili che hanno un certo valore in questo caso per esempio A che c'ha 22 e B che c'ha 44 e mettere nella seconda il valore del primo della prima e viceversa quasi tutti i programmatori tutti i programmatori che io conosco per fare quest'operazione usano una terza variabile di appoggio perché se io vado a scrivere per esempio B diventa A da quel momento in poi A e B hanno lo stesso valore e il valore che aveva A prima è perduto e quindi come faccio a dare a B il valore che aveva A prima l'unico modo che pensano tutti di farlo è quello di prendere una terza variabile d'appoggio in questo caso l'ho chiamata C oppure chiamiamola appoggio così sarà più chiaro dicevo dicevo prendere una variabile di appoggio e temporaneamente scrivere anche in essa il valore di A ora che abbiamo salvato il valore di A possiamo andare a dare ad A il valore di B che era una delle due cose che volevamo fare e poi avendo salvato in appoggio il valore precedente di A lo possiamo a questo punto assegnare a B ed effettivamente queste tre operazioni hanno effettuato lo spostamento del valore di A su B e del valore di B su A tutti quelli che conosco io usano questa tecnica adesso che però voi sapete cos'è l'operatore bitwise or esclusivo vi offro un'altra metodica molto vecchia che sfrutta appunto l'or esclusivo per fare la stessa cosa l'or bit a bit esclusivo ma che non usa la variabile di appoggio è una cosa un po' misteriosa però provate a verificarla carta e penna vi do un esercizio da fare a casa e vedete che riporta e cioè se voi avete una variabile A che ha un certo valore e una variabile B che ha un certo valore e volete mettere in B il valore di A e in A il valore di B fate così fate A diventa A or esclusivo bit a bit con B fate lo stesso per B e rifate la stessa cosa per A adesso per farvi vedere come mai funziona ripeto dovrei perdere qualche minutino sulla lavagna però è talmente banale l'operazione per cui ve la ve la ve la do da fare per conto vostro il risultato qual è il risultato è il medesimo allora mettiamo due numeri altri numeri 33 66 e quando arriviamo alla fine e facciamo lo scambio nella maniera classica effettivamente A che valeva 33 diventa 66 e B che valeva 66 diventa 33 ma se dopo utilizziamo queste tre istruzioni vediamo che quelle tre istruzioni scambiano anche loro i valori delle due variabili ma senza far uso della terza variabile di appoggio questo è un trucchetto che in software molto complessi che dovessero fare per migliaia di volte questa operazione è più veloce e consuma meno RAM la verifica fate la carta e penna questi operatori bitwise che stiamo vedendo per il tipo unsigned le possiamo utilizzare anche per il tipo int definiamo le tre variabili AB e appoggio invece che unsigned di tipo intero ricompiliamo per vedere se compila sì il che significa che questi operatori si possono applicare anche al tipo intero si possono applicare anche al tipo float se uno c'è la curiosità con il compilatore sotto mano fa subito voi dovreste fare così quando siete a casa divertirvi a fare queste prove e poi cercare di capire perché ha funzionato o perché non ha funzionato qualche cosa ti dice il compilatore qualche volta il compilatore ti dice sì vabbè e poi dopo fa delle cose strane qualche volta il compilatore ti dice non vabbè ma non ti spiega perché e dovreste cercare magari anche con i forum cercare da soli allora non mi è venuto questo dubbio non è che per caso questi operatori si possono utilizzare anche con float semplice faccio la prova compilo e il compilatore mi dice compilazione fallita è chiaro è inutile che vada a vedere perché non è applicabile quegli operatori con il float invece se metto int come l'ho fatto un attimo fa lo rifaccio il compilatore gli va bene quindi gli operatori bit a bit si possono utilizzare anche col tipo intero che cambia nulla fanno esattamente la stessa cosa quello che sarà diverso poi sarà il modo in cui sarà interpretata la variabile dall'operatore che la manda in output ma l'operazione bit a bit sarà la medesima non so se mi capite cioè se mi spiego chiedo scusa o se ci avete domande noi stiamo qui apposta vi vedo e non vi vedo se metto gli occhiali vedo voi ma non vedo lo schermo se avete delle domande allora ho messo le tre variabili tipo intero voglio vedere ho visto che compila adesso voglio vedere cosa succede stiamo mandando l'esecuzione e non succede niente di particolare succede tutto come prima però adesso che le variabili sono tipo intero io potrei mettere un numero negativo per esempio invece che 33 meno 33 a questo punto nella variabile ci va a finire meno 33 come verrà scritto sto meno 33 un bit per il meno e gli altri per il 33 no sarà scritto in complemento a 2 va bene anche 66 per 66 in complemento a 2 è in unsigned ed è uguale perché è positivo quando adesso mi andrà a stampare la negazione di A che succederà? vediamo un po' succede tutto come prima a parte che i valori sono interessanti dovreste cercare di spiegare perché la congiunzione bit a bit è B perché la disgiunzione bit a bit è A fate la prova carta e penna e cercate di convincervi del perché di questo output la disgiunzione esclusiva 99 guardate un po' la negazione di A è 32 in teoria questo se eravamo un po' ce lo dovevamo aspettare perché quando abbiamo parlato del complemento a 2 abbiamo detto che per fare il complemento a 2 dovevamo prendere il il numero fare il complemento a 1 che è quello che ha fatto quell'operazione lì e poi aumentare di 1 quindi se prendo adesso quel numero diminuisco di 1 e faccio il complemento bit a bit ottengo la negazione bit a bit di quello che avevo originariamente poi che cosa vedete qui che il bit in posizione 5 stavolta è 1 ma anche prima era 1 è 1 anche questo è 1 anche questo è 1 anche questo è 1 anche questo come mai? perché questo è rappresentato in complemento a 2 era il 33 in complemento a 2 e quel bit lì sono tutti a 1 se è andato a fare il 33 in complemento a 2 bene ok allora la noia a questo punto penso che avrà preso ormai sopravvento per cui andiamo avanti poi vi metterò online sul sito di learning un po' di esercizietti di proposte di programmini per divertirvi esercitarvi questo che ho messo sulla slide ci torneremo quando faremo l'if è proprio un modo per utilizzare gli operatori bitwise per andare a vedere bit a bit il valore di una variabile ma ci torneremo andiamo ancora avanti e il quarto tipo primitivo del C più più è il tipo float e ci mettiamo anche il double di che si tratta? sono i tipi di dato che corrispondono allo standard IEEE 754 di cui abbiamo parlato tre settimane fa quindi io posso definire una variabile f di tipo float e poi gli do un valore con il punto decimale perché nel mondo anglosassone si usa il punto decimale oppure d di tipo double e posso scrivere il valore anche in questa maniera dove e sta per elevato a meno 4 attenzione questo sarebbe 1,23 per 10 alla meno 4 non per 2 alla meno 4 perché quando noi andiamo a scrivere il numero se non ci mettiamo il B vuol dire che lo stiamo esprimendo in decimale la notazione è nostra 10 è elevato a meno 4 va bene per gli operatori float e double ci sono gli operatori per i tipi float e double valgono gli operatori aritmetici che abbiamo visto per gli interi meno 1 ovviamente che il resto perché qui il resto non esiste e vedete anche che per rappresentare la divisione si utilizza lo stesso carattere ma questo è il secondo esempio che vediamo di operatore sto parlando di si vede il cursore sto parlando della barra obliqua che rappresenta la divisione che nel caso in cui gli operandi sono di tipo float o double rappresenta la divisione reale nel caso in cui invece gli operandi sono entrambi interi rappresenta la divisione intera che sono due operazioni totalmente diverse fra l'altro una viene eseguita da una certa parte della CPU quella intera e l'altra la divisione reale viene fatta da un'altra parte del processore che è l'ecoprocessore matematico ed è più lenta molto ma molto più lenta quindi se avete bisogno di fare operazioni solo con numeri interi non ha senso definirli tipo float perché è vero che io potrei scrivere 3.0 e quello sarebbe il 3 ma facendo così le operazioni che vado a fare sono molto più lente e poi non riesco a rappresentare i tanti interi quanti ne posso rappresentare con l'int poi spiegherò perché attenzione richiamo qui un concetto che abbiamo visto sempre tre settimane fa se avete delle variabili tipo float o double attenzione a utilizzare l'operatore relazionale uguale uguale cioè quello che andrebbe a vedere se due variabili hanno lo stesso valore perché perché con questi tipi le approssimazioni sono pesantissime per cui anche se matematicamente due variabili dovrebbero avere lo stesso valore e voi a un certo punto vi viene in mente un algoritmo per testare che effettivamente abbiano lo stesso valore perché dovrebbero averlo matematicamente e in tal caso fareste una certa azione e alla fine molto probabilmente state commentando un clamoroso errore di programmazione come fanno tanti programmatori che non sono ingegneri perché non si rendono conto delle approssimazioni per cui anche se matematicamente le due variabili devono avere lo stesso valore essendo state definite flotte potrebbero non avere lo stesso valore e quindi se voi usate questo operatore qui vi mettete nei guai questo operatore qua l'uguale uguale è meglio non utilizzarlo con i flotte meglio sarebbe sto parlando a futuri ingegneri e un concetto l'ho già dato definire un epsilon piccolo quanto volete voi ma non teoricamente come si fa nell'analisi lo definite proprio un valore piccolissimo e se volete vedere che due variabili abbiano lo stesso valore andate a vedere se la prima meno la seconda ha un valore minore di questo epsilon che avete definito voi che è la vostra tolleranza così fanno gli ingegneri ma il valore della tolleranza lo dovete pensare voi in base al modello al modello matematico del fenomeno fisico che state trattando dipende poi di cosa stiamo parlando ovviamente se di economia o di calcoli strutturali non lo so però il concetto deve essere importante con gli interi potete mettere int a b a uguale b uguale uguale b con i flott è meglio che non lo fate flott a virgola b e poi andate a fare a uguale uguale b è meglio di no voglio provare anche qui a darvi ok si vede questo esercizio? si vede? allora che cosa ho fatto qui? ho cercato di qui introduco un concetto che avrei dovuto introdurre fra un po' di slide successive però ormai ci sono e ve lo faccio vedere qui ve lo faccio direttamente proprio al volo in pratica senza parlare prima della teoria che cosa ho fatto? mi sono definito qui una variabile x di tipo flott e gli ho dato subito un valore l'ho inizializzata gli ho dato un valore molto grande 2 miliardi e rotti e poi gli ho messo virgola 5 5 virgola qualcosa e poi ho chiesto di stampare in output il valore di questa variabile così andiamo a vedere come viene stampato in output il valore di una variabile tipo flott e e vabbè per il momento facciamo solo questo per cui lo commentiamo ah allora commentiamo tutto ah e banalmente banalmente me fa me da errore non so perché scusa oh grazie il retro non ce l'ho messo ma ce lo mette il compilatore e infatti vabbè andiamo veloci a vedere cosa stampa stampa il valore che ho immesso però essendo un valore molto grande vicino ai 2 miliardi la parte frazionaria non l'ha riportata ha messo per 10 elevato a 9 2 virgola ha messo tutti gli 1 significativi che ha incontrato poi a un certo punto si è fermato ha messo quindi attenzione perché anche quando viene visualizzato il valore della variabile flott ci sono delle approssimazioni come si vede chiaramente ma non è questo il problema adesso vi faccio vedere un clamoroso problema però per farvi vedere questo problema devo introdurre la conversione di tipo di che si tratta è un'operazione che viene fatta molto frequentemente nella programmazione che prende una variabile di un certo tipo e ne cambia il tipo in un altro questa operazione dall'inglese si chiama viene scritto in italiano casting cioè cambiare il tipo di una variabile questo che vedete qui alla riga 10 è il modo un modo classico in cui si effetta questa operazione nel C e ovviamente vale anche per il C++ che cosa sto facendo nella riga 10 nella riga 10 definisco una variabile Y di tipo intero e gli do come valore il valore della X ma la X è di tipo float facciamo prima una cosa non convertiamo ecco cosa succede se io do a una variabile di tipo intero il valore di una variabile di tipo float che succede? che dite che succederà? innanzitutto compila ha compilato gli è andata bene il che significa che il C C++ ammette che si faccia questa operazione però la X ha la parte decimale la Y non la può avere e quindi cosa accadrà? eh? approssima tronca o qualche altra cosa che non mi viene in mente in effetti non è che c'è la matematica a spiegare cosa fa è la spiegazione di quello che adesso farà e sta nella mente degli esseri umani dei programmatori prima di noi che hanno programmato questo hanno definito questo linguaggio e secondo voi cosa avranno pensato 50 anni fa perché questo è un concetto che ha 50 anni di fare il troncamento hanno pensato e non l'approssimazione perché perché troncare è più facile ma quello che adesso stiamo vedendo è un qualche cosa di clamoroso allora fammo così tolgo un po' di uno ho tolto 9-1 e rifaccio la stessa cosa mi state seguendo si vede? ha fatto quello che gli ingegneri pensavano dovesse fare la conversione implicita da float a int e cioè butto via la parte frazionaria perché non è ammissibile dentro un variabile tipo intero quello l'avrebbe fatto qualunque fosse stata la parte dopo il punto decimale adesso io vado a mettere 9-1 mi porto a 2 miliardi 111 milioni 111 mila 111 virgola 5, 5, 5, 5, 5 salvo io spero che vi stiano avendo i brividi perché pensate quanto software è fatto questo è il linguaggio fondamentale su cui è scritto questo è C il 90% è software di tutto il mondo e tutti quanti noi abbiamo lì il concetto che il computer non sbaglia mai io ho adesso una variabile x che c'è quel valore quel valore lì 2 miliardi e 111 milioni è minore del valore di Maxint? sì è minore e quindi anche il programmatore scafato ma è minore quindi quando io vado a fare la conversione me deve mettere dentro x 2 miliardi 111 milioni 111 mila 111 e butta via la parte frazionaria invece se io la vado a seguire scappa fuori sta roba 2 miliardi 111 milioni 111 mila 168 e che c'entra 168 che c'entra cosa abbastanza impressionante non c'entra niente ma qualche cosa ci deve entrare perché se no come è possibile che venga fuori se tolgo un 1 fammo le prove non l'ho fatta 104 adesso ho tolto un 1 per cui era 2 miliardi e rotti adesso ho 211 milioni e rotti 211 milioni e rotti e sicuramente meno di IntMax io lo vado a mettere dentro questo valore Flot lo vado a mettere dentro Int dovrebbe dovrebbe ammetterlo e mettere fuori quella roba là perché ci mette 104 ci mette 104 perché il Flot vi ricordo che in teoria andrebbe da meno 30 arriverebbe a 10 alla 35 un qualche cosa per 10 alla 35 che è un numero altissimo che ovviamente è molto ma molto ma molto infinitamente di più del Maxint come è possibile che negli stessi 4 byte io rappresento molti più numeri non è possibile solo saltando dei valori cioè in pratica abbiamo scoperto che in Flot il numero 211 milioni 111 mila 111 non esiste c'è un buco e più vicino a questo numero l'abbiamo scoperto adesso non lo sapevo non è quello è quello di prima è il 104 quello che termina con 104 per capirci probabilmente non lo so se è stato a capire qualche cosa se vi sto a complicare le idee però se vi sto a complicare le idee non è che mi dispiace tanto perché perché l'effetto che voglio operare è proprio questo è di dirvi di stare attenti questo è il messaggio che deve arrivare questi tipi sono importanti e bisogna capire come si comportano il quinto tipo che vediamo di tipo di dato primitivo è il tipo più usato forse è il tipo char che era destinato dall'inizio e tuttora lo è ad ospitare il tipo ASCII e quindi è su un byte solo ma nel dai fine fino agli 80 in poi a seconda della codifica dei caratteri utilizzati dal computer su cui quel compilatore sta girando può rappresentare anche l'ISO 8859 o addirittura l'unicode nel caso dell'unicode vediamo se possiamo fare un esercizietto su questo non ce l'ho va bene ve lo fate da voi fate un esercizietto e lo facciamo al volo su allora come si fa a definire una variabile tipo char si scrive char a vado a leggere dalla tastiera un un valore e lo stampo in output lo compilo c'è qualche errore dov'è chiedo scusa allora mi chiede di mettere una variabile una no non mi chiede niente devo mettere adesso un carattere ho messo G e mi stampa G cosa succede se io invece metto un numero ovviamente me lo stampa tale e quale se è una cifra e se ne metto più di una cosa farà stampa solo la prima per quale motivo perché prende sa che la variabile è su un byte solo per cui prende il primo byte che gli è arrivato sarò più chiaro con il pomeriggio spero e lo mette sulla ram poi quando lo va a stampare lo interpreta come asci e lo stampa direttamente come asci e cosa succede adesso no basta qua lo finiamo qui perché la conversione è troppo noiosa gli ultimi cinque minuti andiamo avanti vediamo il tipo successivo quest'altro tipo di dato è l'ultimo primitivo che vediamo si chiama tipo numerativo e è l'ultimo chiedo un po' d'attenzione a che cosa serve serve a definire dei range di valori che sono definiti dal programmatore mi spiego l'int aveva 4 giga valori lo stesso l'unsigned lo stesso il float il bull ha due due valori vero falso 0 1 ecco se io invece io programmatore voglio avere sette valori per esempio per rappresentare i sette giorni della settimana voglio avere dodici valori per rappresentare i dodici mesi di un anno voglio avere tre valori per rappresentare i colori primari di una bitmap rgb posso farlo o devo appoggiarmi sul tipo intero per quale motivo il tipo intero me ne definisce 4 giga di valori a me ne bastano tre allora ecco l'ultimo tipo di dato primitivo che vediamo è un tipo di dato primitivo in un certo senso perché in realtà è lasciato al programmatore definirlo guardate qui emum è la parola chiave del c che sta a dire puoi definire tu un tipo enumerativo poi devi dare il nome al tipo di dato dopodiché i valori che quel tipo di dato può mettere sono dei valori costanti vengono dal programmatore definiti mettendoli dentro una coppia di parentesi graffe separando ciascuno con una virgola per esempio in questo caso il programmatore ha definito un tipo che lui ha chiamato rgb non si chiama bool questo tipo non si chiama int non si chiama flot si chiama rgb chi l'ha definito il programmatore utilizzando una funzionalità che il c gli ha messo a disposizione e che si chiama enum con enum lui può definire un tipo definendo i valori di quel tipo in questo caso rgb è un tipo di dato che ammette solo tre valori red la costante red la costante green e la costante blue a questo punto avendo definito questo tipo di dato io posso scrivere su una linea di codice invece che int x invece che char x io posso scrivere rgb x e sto dicendo che quindi x è una variabile di tipo rgb rgb è un tipo primitivo del c? no l'ha definito il programmatore in effetti però ho utilizzato una struttura per definire il c che si chiama enum quindi x è una variabile di tipo rgb e che quindi può mettere uno dei valori del tipo rgb rgb l'ho definito io programmatore che può avere o il valore red o il valore green o il valore blu per cui mediante l'operatore di assegnamento io ad x gli posso dare green o red o blu qui y è un'altra variabile di tipo rgb questa operazione qui la posso compattare in una sola riga senza specificare il nome del tipo posso dire esiste un tipo che lo sto definendo io che ammette i valori red green e blu non so come si chiama non mi interessa dirlo quello che mi interessa dire è che y è una variabile di quel tipo questa riga qui compatta le prime due dopodiché questo tipo concludo questa dicendo faccio vedere anche un esempio che il tipo num si appoggia se stesso sul tipo int perché perché in realtà internamente alla macchina per rappresentare la costante red usa lo 0 per rappresentare la costante green usa 1 e per rappresentare la costante blu usa 2 se ce ne fosse un altro userebbe il 3 un altro il 4 e così via questa associazione che è l'associazione che fa la macchina la si può cambiare in questa maniera esplicitando proprio vicino alla costante qual è l'intero che vogliamo associare a quella costante a cosa serve tutto ciò tutto ciò serve al programmatore per rendere più chiaro il suo programma adesso cerco di far vedere un esercizio con cui concludiamo questa lezione di oggi se lo trovo eccolo qua allora concludiamo la lezione di oggi con questo esempio è un esempio che fa uso del tipo numerativo allora io mi sono definito un tipo RGB ma li posso cambiare nome PIPPO che è un tipo di dato che ammette solo tre valori red green e blu rosso verde blu sto definendo io i valori i valori sono quelle tre costanti se ce ne fossero altre ce ne metto altre bianco allora adesso PIPPO è un tipo di dato che ammette quattro valori rosso verde blu e bianco i valori sono proprio quelle costanti che vedete a questo punto io posso scrivere PIPPO X questo significa che sto definendo sulla RAM una variabile X di tipo PIPPO quanto sarà grande questa variabile ve lo dico io 4 byte perché in realtà non esiste il valore rosso non esiste il valore verde non esiste il valore blu non esiste il valore bianco ma per rosso sarà utilizzato l'intero 0 su 4 byte per verde l'1 per blu il 2 e per bianco il 3 perché non usare direttamente noi 0 1 2 e 3 è perché a me nel programmatore nel codice sorgente 0 1 2 e 3 non mi avrebbe significato nella mia mente di essere umano niente mentre invece rosso verde blu e bianco mi significano cioè mi migliora la leggibilità del codice tutto qua tutto qua a questo punto io posso no green no devo mettere x uguale verde e poi e poi e poi facciamo così adesso salviamo vediamo un po' che cosa stampa in output questo e finiamo cosa stampa perché ci avete innanzitutto ha compilato va bene c'è solo che ha non la stiamo usando va bene lo commentiamo adesso ricompiliamo e lo mandiamo in esecuzione stampa 1 perché stampa 1 come avevate correttamente previsto non stampa verde attenzione x è verde prende il valore verde ma in realtà verde non esiste in quanto valore perché a livello macchina è stato è stato associato al numero 1 perché il rosso era stato associato allo 0 il verde dall'1 il blu al 2 e il bianco al 3 se io lo scrivo lo mando in stampa viene stampato il valore della x che sulla ram è 1 prima ho provato a convertirlo in pippo cioè prendo il valore 1 e lo voglio convertire in pippo cambia qualcosa? non cambia niente il valore sempre quello è se non mi sta bene associare a verde il 1 per un qualche motivo faccio così e associa questa operazione associa a verde non l'1 ma il 5 e infatti se lo vado a stampare mi stampa 5 bene allora per questa mattina finiamo qui ci vediamo alle 2 e mezza in aula 145 3 3 5 6 6 6 6 7 8 10 9 10 Grazie.